Negli spazi dell'ex Caserma Rossi il polo scolastico, gli uffici pubblici del comune in Viale Rendina dove c'era l'Inps e nel distretto militare di San Bernardino ormai dismesso i carabinieri del nucleo tutela beni culturali. Sono solo alcuni dei passaggi del protocollo d'intesa sottoscritto oggi dal sottosegretario alla difesa Alfano, dal vicepresidente della regione Lolli, dal sindaco dell'Aquila Biondi e dal direttore dell'agenzia del demanio Roberto Raggi. Un piano di iniziative di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nell'ambito del quadro strategico di ricostruzione e riassetto della città anche in relazione alle nuove esigenze del ministero della difesa. Tutto parte dall'idea del comune di riutilizzare complessivamente il patrimonio dimostrando all'Italia, ha detto Biondi, che l'Aquila sta lavorando bene, merita attenzione e risorse. Un percorso molto lungo quello del protocollo d'intesa per il quale ha lavorato moltissimo l'ufficio del demanio regionale. La presenza delle forze armate del resto è preziosissima per la città dell'Aquila e il comune vuole essere più ospitale possibile, mettendo anche a disposizione dei militari e delle loro famiglie all'oggi. Un accordo che prefigura anche altre cose in futuro con investimenti importanti di regione e Stato per sviluppare successivamente altre opere di valorizzazione del patrimonio. Vicini alle forze dell'ordine e alle forze armate, ha detto il sindaco Biondi, anche per consentire la stanzialità all'Aquila, mettendo magari a disposizione anche appartamenti vuoti del progetto Case, un progetto che si pensa di allargare anche agli universitari tramite degli accordi con l'ADSU. Insomma una giornata importante dal punto di vista riorganizzativo degli immobili.